La consacrazione del monumentale campanile e del rinnovato santuario della Madonna del Rosario, celebrata da sua eminenza il Cardinale Maglione, alla presenza di una folla immensa affluita con treni speciali a valle di Pompei per rendere omaggio alla Vergine che conta milioni di devoti in tutto il mondo. Dopo la consacrazione dell'altar maggiore e la benedizione dell'interno, si sono aperte le porte della basilica per lasciare uscire la processione, recante l'urna con le reliquie dei santi che si è svolta tra la profonda commozione del popolo che gremiva la piazza e che ha preso parte l'indomani mattina con rinnovato fervore alla grande processione della venerata miracolosa l'immagine della Madonna del Rosario che è stata incoronata con un nuovo preziosissimo certo di gemme inviate da fedeli residenti in Italia e all'estero. a conclusione del rito l'eminentissimo Porcorato ha letto il messaggio del Sommo Pontefice e impartito la solenne benedizione. grazie grazie grazie